Pepe no, il booter, pepe no, il booter, pepe no, il booter Marco, fai il test allineamento morale Allineamento morale Oggi ho una tier list che è da proporvi E me l'ha fatta venire in mente uno della chat Che ha scritto che la mortadella non è niente di che Ed è la tier list salumi Non ci abbiamo mai pensato Test Allineamento Morale Quindi questo si Nati con l'avvento del gioco di ruolo Dungeons & Dragons I nuovi allenamenti morali che descrivono la visione morale ed etica di una persona Hanno avuto sempre maggiore seguito su internet Qual è il tuo allenamento morale in via quanto ti rispecchia ciascuna delle seguenti affermazioni Ma abbiamo mai fatto la tier list cereali? Mi pare che è stata una delle prime Quella crunch assieme a Daniele, ti ricordi? Va bene, facciamolo Mi sento un po' crazy oggi ragazzi Non ho fatto un cazzo di tutta la giornata Mi sento statico Era un po' una di quelle giornate da letto questa qua Stai sto parlando Marco? Buonasera Eccomi Scusa Ok Tanti cuori Tanti cuori anche a te Emanuele, grazie per l'abbonamento Ok Di solito Siamo a 14 mesi 14 come? Biancaneve e i 14 nani O erano 7 Ok Di solito non mi preoccupo di aiutare chi ha bisogno Non mi preoccupo Perché non scrivo? Vabbè, non mi preoccupo Non sono d'accordo perché sfortunatamente Sono una merda di croce rossa Come molti di voi si potranno sentire Nelle relazioni Sto per spaccarmi la bocca E quindi niente Non sono d'accordo perché sono abbastanza un aiutante Non mi sento in colpa quando ferisco e offendo qualcuno Tempo fa Sarei stato molto d'accordo Ma è veramente cambiato negli ultimi anni Perciò Direi Un po' verso il non sono d'accordo Barare non è giustificabile Perché non è giusto le confronti degli altri Barare? Il fatto è che ci sono Delle situazioni nella vita Dove Barare è fighissimo Ma in generale Quando gioco vorrei che Ci fosse una grande Grande equilibrio Che si può Avere solamente non barando Perciò Non è giustificabile Perché non giusto le confronti degli altri Sono 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 abbastanza d'accordo Gli altri mi considerano una persona di buon cuore E con buone intenzioni Per niente Non sono Non sono molto d'accordo Non vengo visto Non lo so Le persone intime che mi conoscono nel profondo Dicono che sono buono Ma ovviamente che cazzo possono dire quelle che si avvicinano Ma la maggior parte credo che mi ripetono un po' un pazzo Spesso aiuto gli altri senza aspettarmi nulla in cambio Senza aspettarmi nulla in cambio Non è tanto vero Non sono d'accordo Spesso perdono che mi ha fatto un torto Anche se non lo merita Non proprio Non proprio Spesso mi preoccupo che le mie azioni Siano meritevoli di critiche Spesso mi preoccupo che le mie azioni siano meritevoli di critiche Sono molto d'accordo Però mi preoccupo Meritevoli e mi preoccupo nella stessa frase Io mi preoccupo Perché preoccuparsi vuol dire starci comunque un po' male Che le mie azioni siano meritevoli di critiche Io voglio che tutte siano Ogni cosa è meritevoli di critica Ma che cosa cazzo vuol dire Vabbè sono d'accordo tanto Ok Sono incline alla gentilezza e alla cooperazione Alla gentilezza Sono abbastanza neutrale su questa cosa qua Sono abbastanza neutrale Perché a volte veramente sì A volte veramente no Ciao Mario Che voglio e non sento particolari obblighi Nei confronti di nessuno Sono abbastanza d'accordo Spavento gli altri Spavento gli altri per ottenere ciò che voglio Spavento Io credo Molta gente mi ha detto che è così Ma non lo faccio apposta E questa cosa anche con i fan la noto Che in generale l'area La Laura Che è mano C'è molto di differenza fra l'area e l'aura Ma non è così tanto È quella di qualcuno che si spaventa Cioè Marco Oggi ero là e t'ho visto Cioè ok Magari c'è anche la roba del famoso Ma in generale Mi hanno sempre detto questa cosa Però non è che lo faccio apposta Quindi boh Neutrale direi Spesso mi preoccupo Di volermi Confortare in modo inappropriato Mai Non mi sono mai preoccupato Anche se cerchessi con tutte le mie forze Di vendere qualcosa Non mentirei mai Solo per ottenere ciò che voglio Di vendere qualcosa? Di vendere qualcosa Boh Neutrale Aiutare gli altri Ricompiendo buonazioni È di per sé una ricompensa È un po' ipocrita per me Scrivere solo molto d'accordo Ma io la penso così Io penso che dovrebbe essere così Che di per sé Ti fa dormire meglio la notte Fare buone azioni Però io non riesco Non aspettarmi niente in cambio Anche solo questa cosa in cambio L'andare a dormire bene Però a volte Non ottengo neanche questa E mi incazzo Ma in generale sono molto d'accordo Prendo nota di informazioni riservate Che possono essere usate Per fare le persone In un secondo momento Sono d'accordissimo Sono d'accordissimo Non che le ferisco Però adoro Sapere Cioè non le uso Però adoro Sapere I cazzi degli altri Soprattutto quelli più intimi Li adoro Perché Che poi Che possono essere usate Il fatto è che Se dici sono d'accordo A questa cosa qua Ovviamente verrai Classificato da sto testo Come un cattivone Ma non è per forza cattiverio A me interessano queste informazioni Anche per Sapere veramente Come è fatta una persona E spesso Quando scopri qualcosa Della vulnerabilità Di una persona È la cosa più interessante Da sapere Quella che parla di più Di qualcuno Perché anche quella là Appunto più riservata Però vabbè Sono d'accordo Ho un bisogno di stimoli eccessivo E tendo ad annoiarmi Sono molto d'accordo Vivo così Oggi è uno di quei giorni E voglio ammazzarmi Quando vedo Ovviamente ragazzi Non vi ammazzate Io posso Perché sono uno streamer Posso ammazzarvi Voi siete popolani Dovete manare in vita E questa è la cosa bella Che c'è fra di noi Quando vedo gli altri Comportarsi incautamente Penso tra me e me Che è solo una questione Di tempo Prima che la sfortuna Li colpisca Sono molto d'accordo Sono molto d'accordo In generale preferisco Comprarmi qualcosa in più Che donare in beneficenza Beh il pianeta Terra È così Però Eh sì Sono d'accordo assai Però Boh No Sono d'accordo abbastanza Perché a volte Cioè Faccio molti Regali Sono una persona Che fa molti Regali E quello lo vedo Un po' come dare in beneficenza Nel senso Aiutare il prossimo Dare qualcosa al prossimo Sarà che ho tutto Quando qualcuno muore Non rimango così sconvolto Come gli altri Sono molto molto d'accordo Non mi è mai 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 successo Mi ritengo giustificato Nel frutto il possibile Per avere successo Abbastanza d'accordo Faccio veramente La puttana online Cioè mi piace Spogliarmi Sia letteralmente Che moralmente Però ecco Non farò mai Pantellas Non considererei L'idea di usare Soldi falsi Nemmeno se avessi La certezza Di poterla fare franca Ehm Minchia Se mi arrivassero Diecimila euro falsi E sono sicuro La faccio franca Li uso eccome Porca madonna Vado a comprarmi Solo Chewing gums Ehm Non sono d'accordo Per niente Spesso provo Tenerezza e premura Per le persone Meno fortunate Di me Sono Molto d'accordo Inganno E truffo Le persone Se ho interessi Per farlo Inganno E truffo Abbastanza neutrale Secondo me Alcuni meritano Veramente Di essere truffati E ingannati Perché stanno facendo La stessa cosa E purtroppo Dente per dente È sempre stata Una mia filosofia Con alcune persone Altre no Magari anche se Si meritano Questa cosa qua Si vede che Sono diventate In quel modo là Perché la vita È stata sfortunata Con loro C'è chi invece Sa fare una differenza E sceglie proprio Di fare l'ingannatore Quindi va bene Neutrale Che vuol dire Pallino su qui Pallino qui Che vuol dire Sono cattissimo Sono malvagio Questo è buono Questo è cattivo Caotico 6 14% Malvagio 35% Caotico Porca miseria Peace Fritz Ciao Sei gay Sono gay Caotico Leggermente Malvagio Vabbè 6 14% 35% Caotico E ciò ti rende Caotico Neutrale Caotico Neutrale Ok Le persone con Allineamento Caotico Neutrale Credono che Alla fine L'ordine Non esiste In nessun Aspetto Della vita Nemmeno Nelle loro Stesse azioni E fin qua Essendo questi Il loro principio Guida Tendono a seguire Qualsiasi cosa La loro fantasia Dica loro di fare Pure questo Postanza vero Il bene e il male Sono irrilevanti Quando si prende Una decisione Spesso diventa Estremamente difficile Trattare con persone Con allineamento Caotico Neutrale Anche se promuovono Gli ideali di libertà E la loro stessa libertà Che viene prima Di quello degli altri Anche se promuovono Gli ideali di libertà E la loro stessa libertà Che viene prima Io non sono molto d'accordo Nel senso che Uno che Grida la libertà Allora Deve poter Far fare Quello che Tutti vogliono fare E Se mette dei paletti Non vuol dire Cioè Che vuol dire Che se Quindi Credi a tutte le libertà Anche quelle che ti vanno contro Sono giuste No Tu puoi avere la preferenza Non sono molto d'accordo Con questa frase Una frase un po' strana Questi individui Hanno uno spirito libero E non provano piacere Nel vedere gli altri Soffrire inutilmente E a volte È veramente Intrattenente Per me Vedere il male Capitare nella vita Ma perché Se vogliamo proprio Parla di caoticità È un grande stimolo Vedere che Esempio Esempio C'è un Oscuro Piacere Nel vedere Il video Della distruzione Delle torri gemelle Non perché un giorno Voglio diventare Il terrorista Che fa una cosa simile Ma perché Parla molto Della nostra specie Della nostra razza Quella umana Ed è una razza che Cade nell'ipocrisia Nello schifo Nella vergogna E quindi Io provo piacere A sapere Che il mondo Mi manda questi reminder Che anche se È molto bianco A volte È molto nero E a me fa Piacere Questo è il piacere Che mi causa Quella roba là Ehm Poi ovviamente Stiamo parlando Di Dungeons and Dragons Quindi quando si parla Di piacere Di vedere soffrire Inutilmente Si parla Al Al barone Con la Con la sfera Di cristallo Oscura I poveri No Non esiste Questa cosa Maledetti idioti Nerd di merda Ehm Però Oh Sette Come i sette bacini Che ti meriti Allora Secondo me ne ha merito Un pochino di più Una cima doppio Una cima doppio Una cima doppio Una cima doppio Però vabbè Fai tu Grazie comunque Io bene Ehm Ma se si uniscono Ad un gruppo È perché gli obiettivi Di un gruppo Coincidono con gli obiettivi Personali di quel momento Ma come tutti Ma perché ti vai In un gruppo Perché vuoi È così Se si uniscono Ad un gruppo È perché gli obiettivi Di quel gruppo Coincidono con i loro obiettivi Ma wow Non sopportano Non sopportano di prendere ordini Dagli altri E possono essere molto egoisti Nel perseguire i propri obiettivi Qua mi ci ritrovo molto Allo stesso tempo I metodi che impiegano Per raggiungerli Sono spesso disorganizzati Verissimo Poco ortodossi E quasi del tutto imprevedibili No Sono abbastanza prevedibili Come persona Ma Sì la disorganizzazione È sempre stata Una feature Una mia feature Oh Celeposchi Per la react è perfetto Grazie Eccoci qua Siamo tornati La Tana di Asam Puoi un attimo Presentarti Chi sei Marco Ho dato la sub a Mario Sto mese Ho fatto bene Vero? Ne ha più bisogno Lui di te Ah sì? Sì? Ok Mario nella vita Sta facendo streaming Quindi quello che gli serve È l'affitto Ti dico Lo sto facendo io Io creo dei video Leggendari A cui Mario Non arriverà mai Ma neanche Fra cent'anni Non è il suo interesse Non è proprio questo Sto facendo un album Sto facendo un album Devo dimagrire Quindi tanti soldi In quello pure Non ho una macchina Vorrei una macchina Una moto magari E In generale Amo avere tanti soldi Nel portafoglio Lui dice sempre Nelle live Che non ne ha bisogno Che comunque È una persona Semplice Quindi Quindi dai Dai l'abbonamento a me Mario Maggiore di Marco Bannato Qui nel mio canale Sice solamente Che io sono migliore Degli altri Sì Grazie.